Siciliano, ieri era prevista, era fissata una riunione l'ennesima al Ministero per lo Sviluppo Economico a Roma e l'oggetto di questa riunione era la verifica del protocollo. Erano assenti i sindacati ma comunque la riunione si è svolta? Sì, il tavolo di verifica in zenzolato, ecco quello standard che si svolge ogni due mesi, viene posticipato a settembre per varie ragioni. Noi in quanto istituzioni, in zenzolato la Regione, il Comune e il Ministero, abbiamo l'obbligo morale di continuare a mantenere alta l'attenzione sul territorio. Quindi a prescindere da tavoli di verifica, sono un momento importante per confrontarsi tutti in maniera collegiale, ci sentiamo quotidianamente per verificare lo stato di avanzamento delle attività sul territorio di Gela. Quindi abbiamo approfittato per incontrare il Vice Ministro, per incontrare altri funzionari dei vari ministeri e fare il punto sull'azione programmatica portata avanti come ente territoriale. Quindi ad un anno di distanza abbiamo ritenuto opportuno cercare di fare il quadro sulle azioni relativamente all'accordo di programma, sul stato d'avanzamento del protocollo d'intesa, su quello che è stato fatto, i tempi in cui è stato fatto, in cui si devono fare i vari passaggi di avanzamento. Il Governo centrale vedono in quella soluzione proposta dall'ente territoriale un elemento strategico per il rilancio del sistema paese. Lei si ritiene soddisfatto del lavoro fin qui fatto in relazione alla situazione poi che vive in questo momento l'area industriale gelese? La situazione che vive il territorio, quindi non solo l'area industriale gelese, è una situazione complessa. Sicuramente siamo a farsene carico e più di tutto sono i lavoratori che stanno dando dimostrazione di dignità nel resistere, nel fronteggiare una situazione devastante come quella della perdita del posto di lavoro. Oggi sono più che mai convinto che il percorso tracciato e intrapreso con gli organi di governo più concreto, più fattibile e che a breve le soluzioni diventeranno concrete. Stiamo parlando di strategia di carattere nazionale perché abbiamo cercato di dare a Gela il ruolo che aveva 60 anni fa, cioè quello di una piattaforma per la produzione, trasformazione e distribuzione di carburanti. A questo si affianca la piattaforma logistica con la possibilità di inserire il sistema portuale gelese all'interno dell'area logistica integrata del sistema portuale Augusto e Catania.